Luca Maddoni, ormai è tutto pronto. Questo weekend a Isernia ci saranno i campionati paralimpici italiani. Insomma, una grande vetrina per Isernia, una grande vetrina per la NAI e anche una grande responsabilità. È una grande responsabilità sicuramente, perché è la prima volta che questo campionato viene assegnato ad una città non del nord. Ci hanno dato fiducia sulla scorta del curriculum che abbiamo meritato, possiamo usare questo termine, negli anni scorsi, 2014-2015, quando abbiamo organizzato bene altri due campionati nazionali. Speriamo che vada tutto bene. Certo, questo campionato non ha nulla a che vedere con gli altri. Molto più impegnativo, anche perché la materia che trattiamo è più delicata, in atleti paralimpici. Poi due giorni di gare allo stadio L'Ancellotta, con molte persone coinvolte nell'organizzazione, necessariamente è stato difficile. Speriamo che vada tutto bene. Sono sicuro che andrà tutto bene. Assolutamente sì, anche perché la NAI non è sicuramente nuova, questi attestati di fiducia. Diciamo così. Saranno, arriveranno a Disernia i migliori atleti italiani, perché insomma si giocheranno qui all'Ancellotta Disernia, si giocheranno l'accesso per il Mondiale di Londra. Sì, sì, proprio il giorno 4. Il giorno 4 è il termine ultimo per fare i minimi per accedere ai Mondiali di Londra, che cominceranno il 14 luglio. Quindi l'impegno profuso da questi atleti è massimo. Verranno anche dei nomi conosciuti al grande pubblico, perché poi la televisione ha raccontato le loro storie. Quindi adesso non possiamo far altro che invitare la popolazione, non solo Isernia, ad assistere a questi campionati e a tifare. Sì, è una vetrina, anche perché ci sarà un'esposizione mediatica notevole. È una vetrina e dobbiamo far vedere che Isernia ama i suoi atleti paralimpici. E questo è la vetrina.